La mattina dell'11 settembre del 1599 è una delle più calde che ci siano mai state in quel periodo a Roma. Sul finire di quella giornata si conteranno un sacco di morti tra la popolazione di Roma, tra persone colpite da colpi di sole o calpestate dalla folla o precipitate e annegate nel Tevere. Ma perché quel pericoloso assembramento proprio quel giorno? La risposta la si poteva trovare fuori Castel Sant'Angelo, dove era stato montato un palco alto abbastanza per soddisfare la visuale di tutti i presenti. E fu così che lo spettacolo ebbe inizio. Prima sul palco venne portato un ragazzino, poco meno che diciottenne, bianco in volto e sul punto di collassare. Venne fatto sedere su una sedia sistemata sul palco e per sicurezza venne anche legato ad essa. Dopo di lui, sul palco, salgono in quest'ordine tre persone. Prima una donna svenuta, sostenuta per le braccia dalle guardie. Poi, una ragazza bellissima che si erge in mezzo agli altri come la statua di una santa. E infine, un ragazzo dilaniato dai ferri roventi e dalle tenaglie della tortura e trasportato legato a dei ceppi. Quelle persone sono gli ultimi membri della famiglia Cenci, una delle famiglie più ricche di Roma. E stanno per essere giustiziati. L'accusa? Parricidio. Buon di buona gente, sono Luigi in arte Lusio, anzi, professor Lusio, e benvenuti a questa nuova lezione di storia. Oggi, come avrete già capito dall'introduzione e anche dal titolo, ovviamente lo dico sempre, vi parlerò di uno dei fatti di cronaca nera più famosi della storia italiana. Beh, se parliamo soprattutto della storia italiana di prima del Novecento, è un caso che ha fatto, ha sbizzarrito la fantasia di scrittori, artisti, poeti, drammaturghi, cineasti. Se ne è parlato e penso che quasi tutti la conoscano come storia, o comunque, se non nei dettagli, almeno per sentito dire. Questa è la storia di Beatrice Cenci, una ragazza che venne condannata a morte per aver ucciso suo padre, in combutta con la matrigna, con i fratelli e, si dice, anche due suoi amanti. La storia però ha molti retroscene, ha molti aspetti che pochi o che non siano andati veramente a studiare la storia conoscono. E oggi vi parlerò di questa storia. Siamo sul finire del 1500 e a Roma c'è ovviamente il dominio del Papa di allora, all'epoca era Papa Clemente, Papa Clemente VIII, il Papa delle riforme, delle grandi riforme artistiche, e qui si svolge la vicenda della famiglia Cenci, come vi ho detto una delle famiglie più ricche di Roma, se non la più ricca. Il capo di questa famiglia è Francesco Cenci, un uomo di quasi 40 anni, che ha una nomea, beh, per dire pessima è come fare un eufemismo, è praticamente un criminale che si è autolegalizzato. Grazie alla sua possibilità di pagarsi i giudici, di corrompere le guardie, di aggirare la giustizia proprio in virtù della sua ricchezza, lui è un uomo che si lascia andare ad ogni tipo di crimine e violenza. Più volte si è macchiato di crimini che nella Roma dell'epoca sarebbero stati puniti anche con la morte. Infatti lui, ad esempio, è eclatante il fatto che venne accusato da una serva di averla sodomizzata, cioè in altre parole di averla stuprata in via, per via non procreativa, diciamo così, che all'epoca che lo facessero due uomini o che lo facesse un uomo su una donna era comunque un crimine che veniva punito con la morte, ma lui riuscì a aggirare tranquillamente la giustizia a suon di Ducati, pagandosi quindi la libertà. Ma i crimini, le malefatte di Francesco Cenci non si limitavano solo sul piano pubblico, diciamo, ma anzi forse i peggiori crimini li commise proprio all'interno del suo nucleo familiare. Francesco Cenci aveva sposato in prime nozze Ersilia Santa Croce, che gli aveva fatto parturire sette figli, cinque dei quali raggiunsero l'età adulta. Alla fine Ersilia morì, poco dopo aver dato alla luce l'ultimo genito, Bernardo. Si dice che probabilmente fosse stata la salute della povera Ersilia fosse stata messa a dura prova dai maltrattamenti del marito, che era un uomo che ci andava giù parecchio pesante, sia con le mani che con le parole. Dopo qualche anno sposò in seconde nozze, però dopo molti anni, dopo qualche anno, cioè non dopo molti anni scusate, sposò in seconde nozze un'altra donna, Lucrezia Petroni. Anche lei vedova, già madre di un figlio. Purtroppo per tale Lucrezia Petroni le cose non è che andarono meglio di come non fossero andate alla compianta Ersilia, anzi, forse andarono anche peggio. Ma prima di passare già alla seconda moglie, diamo una scorcia a una scorta ai figli di Francesco. Lui ebbe, come ho detto, dei sette figli che ebbe da da sua moglie Ersilia, ebbe altri, ebbe sopravvissero altri, come dire, raggiunsero l'età adulta. Ebbe il primo figlio maschio, il maggiore, Giacomo, poi altri due figli, Rocco e Cristoforo, poi due figlie femmine, Antonina e Beatrice, e poi l'ultimo nato, Bernardo. Il rapporto con i figli era quanto più disumano si potesse creare. Francesco Cenci non era quello che si può definire un padre. Pure dire padre padrone sarebbe riduttivo. Si comportava veramente come se i suoi figli non fossero tali. Basti pensare che i figli maschi dovettero fare appello a appellarsi direttamente al papa perché il padre si rifiutava di elargire loro una rendita per mantenersi, rischiando quindi di mandarli alla fame. Infatti i tre figli più grandi, Giacomo, Rocco e Cristoforo, rimasero che potevano già dirsi indipendenti raggiunta la maggior età. Si ritrovarono senza mezzi in poco tempo, dal momento che Francesco si rifiutava di versare loro dei lasciti che sarebbe stato suo dovere dare ai suoi figli. E proprio ridotti alla miseria, i tre fratelli scrissero al papa affinché intercedesse per loro, al che il papa obbligò Francesco a dare una rendita decente ai suoi figli. E ciò rese il rapporto tra Francesco e i suoi figli ancora peggiore dopo questo fatto. Tant'è che si rifece anche nella maniera più brutale che si possa immaginare. Però si riebbe su quelli che erano i membri della famiglia più deboli, quindi il figlio minore Bernardo e le due figlie femmine, Antonina e Beatrice, che prima, per la prima parte della loro infanzia, erano state cresciute, scusate, erano state cresciute in un convento. Poi però vennero riprese in casa dal padre che iniziò a vessarle, a maltrattarle in modi tremendi. Tant'è che Antonina, la figlia più grande, scrisse anche lei al papa pregandolo di liberarla da quell'incubo, a sua scelta, o darle una dote per permetterle di sposarsi, perché il padre si aveva richiamato in casa le figlie e non permetteva loro di uscire, era appunto per non essere costretto a pagare loro la dote per potersi maritare. Quindi Antonina si appellò anche lei, come già avevano fatto i suoi fratelli, al papa, chiedendo di liberarla da quella situazione orribile, a sua scelta, come più avrebbe ritenuto opportuno, o dando, elargendole lui una dote per potersi maritare, oppure permettendole di prendere i voti e ritirarsi in convento. Quindi, giusto per farvi capire, Antonina era disposta o tanto a maritarsi, che all'epoca per una donna era sempre una roulette russa, o anche rinunciare al mondo e rinchiudersi in convento pur di non subire le angherie del padre nella sua stessa casa, proprio per farvi capire come doveva essere la situazione in casa Cenci. Il papa rispose all'appello di Antonina, le diede una dote e lei poté sposarsi e scappare via, e si può dire che lei fu la più fortunata di tutta la sua famiglia, perché non venne toccata dalla tempesta che poi avrebbe distrutto i membri della famiglia Cenci. E dopo che Antonina era riuscita a liberarsi, Francesco Cenci divenne, se possibile, ancora più brutale, a maggior ragione contro la figlia restante Beatrice, perché temeva che potesse seguire l'esempio della sorella maggiore, quindi per non perdere la presa su di lei, la rinchiuse nelle sue stanze nel castello di Rocca Petrella, in una delle loro zone, e le impediva ogni possibilità di uscita, e successivamente obbligò anche la seconda moglie, Lucrezia Petroni, ad unirsi nella prigionia della figliastra, quasi che Lucrezia dovesse sopperire alla mancanza di Antonina, e quindi fare le sue veci nel subire gli sfoghi violenti del marito. Nel mentre anche due degli altri figli maschi di Francesco fecero una ben misera fine. Ro, sia Rocco che Cristoforo, infatti, morirono entrambi di morte violenta. Uno, il primo Rocco in una rissa da taverna, mentre invece Cristoforo venne ucciso da un altro nobile durante un regolamento di conti, a quanto pare per un debito non pagato. E Giacomo, in quanto sentendosi responsabile della situazione, della salvaguardia della sorella, del fratello minore, e anche della matrigna, a suo modo non si sentì, non ce la fece a distanziarsi troppo dal nucleo familiare. Pensava che magari se lui fosse rimasto, se non proprio nella casa, nella casa Natia, almeno nei dintorni, avrebbe potuto cercare di stemperare un po' la situazione. Purtroppo non sarebbe stato così. Beatrice qui rientra allora nel pieno della storia, iniziando a ritagliarsi un proprio spazio. Fortificata, forse in un certo qual modo, o indurita più che altro dai maltrattamenti che il suo stesso padre le riservava, Beatrice tentò di emulare la sorella Antonina, mandando delle lettere non solo al Papa, ma anche ad alcuni conoscenti, anche lontani parenti, chiedendo loro aiuto affinché la liberassero da questa situazione. Purtroppo Francesco le aveva intessuto attorno, appunto per evitare che si ripetesse la stessa situazione della fuga di Antonina, le aveva tessuto attorno una rete di spie formata dalle domestiche, dagli inservienti, dai lavoratori, i sottoposti del castello, che infatti le fecero per venire al padre tutte le lettere che Beatrice aveva scritto. E con quelle alla mano non possiamo dire con certezza cosa fece Francesco nei confronti di Beatrice. Fatto sta che se la condizione della ragazza e anche della matrigna erano già dure di per sé, diventarono, se non è possibile, ancora peggiori. C'è chi avanza l'ipotesi che proprio in questo frangente Beatrice avrebbe subito delle vere e proprie violenze sessuali da parte del padre, che l'avrebbe addirittura costretta a sottoporsi delle pratiche nello stesso letto con la matrigna, con Lucrezia, mentre lui guardava per un proprio soddisfacimento personale, nel contempo umiliando e violentando anche psicologicamente le due donne. Queste non possiamo dirlo con certezza, se è vero. All'epoca la voce di popolo punto molto sulle violenze sessuali, sulle probabili violenze sessuali che Beatrice e anche Lucrezia avrebbero ricevuto da Francesco. Durante i fatti che subentrarono vennero anche confermati da tutti, tranne che dalla stessa Beatrice, ma i motivi che la spinsero a tacere sono anche piuttosto chiari e ci arriveremo quando arriveremo a quel punto della storia. E fu proprio in questo frangente, quando Beatrice si vide tolta ogni possibilità di liberarsi, quando si vide anzi condannata ad una prigionia, vedendosi quasi sull'orlo della disperazione, sull'orlo proprio della fine. Fu in questo frangente che maturò il piano per liberarsi definitivamente dal gioco oppressivo del padre padrone. Ed è qui che entrano in ballo due figure chiave in questa vicenda, ovvero Olimpio Calvetti, che era un segretario di Francesco, e Marzio Catalano, un maniscalco. Queste due persone uscivano proprio dalla cerchia più stretta di Francesco, ma entrambi avevano delle ragioni per avercela a morte con Francesco, che non era, come avrete già capito, non era un tipo che si faceva amare, ma neanche per niente. E in più sembra che lo stesso Olimpio Calvetti, che comunque era un uomo già sposato, si innamorò di Beatrice e intrecciò con lei una relazione. Qui quindi vediamo formarsi un nucleo di cospiratori o vendicatori, o comunque di un tentativo per un gruppo che puntava principalmente all'eliminazione del carceriere per liberare le vittime innocenti. In questo caso Beatrice, il fratellino Bernardo e la matrigna Lucrezia. Non sappiamo bene come venne concertato il piano successivamente a essere indicata come la mente principale del piano, atto all'eliminazione materiale di Francesco Cenci, fu la stessa Beatrice. Però non sappiamo lì a concertezza se fu l'è da orchestrarlo, se magari il piano partì da un pensiero comune da tutto il gruppo, oppure magari partì principalmente dalla parte esterna, ovvero da quelli che assistevano erano testimoni di quanto stava accadendo nel castello di Rocca Petrella e che quindi avevano più possibilità di muoversi e organizzarsi. Quindi Giacomo, il fratello maggiore di Beatrice, e i sopraccitati Olimpio Calvetti e Marzio Catalano. Ma di base comunque in questo gruppo ampio si organizzò in maniera molto precisa e oculata per uccidere Francesco Cenci. Tentarono prima vari, ci furono vari tentativi prima. Il primo fu quello di far organizzare un finto assalto di briganti e così poter simulare una morte per rapina. Lungo la strada per il castello di Rocca Petrella, dove Francesco aveva intenzione di andare a soggiornare per un periodo e per aumentare il tiraggio delle violenze nei confronti della figlia e della moglie. Purtroppo il piano fallì, perché gli uomini che erano stati pagati per fingersi banditi a salire Francesco e ucciderlo mancarono all'appuntamento e quando si trovarono nel punto dell'appuntamento dove avrebbero dovuto incrociare Francesco e ucciderlo, Francesco era già bello che è arrivato a Rocca Petrella. Il primo tentativo quindi fallì. Il secondo fu più, già più, più, come dire, più temerario, ovvero avvelenarlo. Purtroppo non si sa come, forse il veleno non fece effetto, forse sbagliarono le dosi o forse Francesco rigettò il veleno semplicemente vomitando dopo essersi sentito male. Non si sa con certezza. Fatto sta che anche il secondo tentativo, quello di avvelenare Francesco, fallì. Dopo questi primi due tentativi falliti il gruppo iniziò quasi a propendere per lasciar perdere la situazione. Magari forse con una punta di superstizione pensavano che magari se i primi due tentativi erano falliti vuol dire che proprio la ragione, magari Dio non voleva che venisse compiuto questo atto. Ma Beatrice che troppo ne aveva subite ed era ormai stufa di essere vittima di tali violenze, prese qui le redini della situazione e su questo concordano tutti quanti. La stessa Beatrice lo confermò. Disse lei stessa che se loro, rivolgendosi al fratello Giacomo e all'amante Olimpio e a Marzio Catalano, rivolgendosi a loro dissero che se non erano abbastanza uomini per commettere quest'azione potevano anche ritirarsi. Se ne sarebbe occupata lei che avrebbe dimostrato di essere, di avere uno spirito più forte del loro. Sentendosi quindi umiliati da questa ragazza, ricordiamoci che Beatrice era, beh, per lei col senno di oggi è una giovinetta, aveva 22 anni. All'epoca poteva già essere considerata una donna fatta, ma con la nostra ottica era praticamente una ragazza, una ragazzina, una giovinetta a 22 anni. E così, grazie anche allo sprone da parte di Beatrice, si decise di tentare il tutto e per tutto, e stavolta non avrebbero fallito. Dopo aver drogato il vino bevuto da Francesco con degli oppiacei, in modo da favorirgli il sonno, Olimpio e Marzio, che furono le mani dietro l'operazione, si intrufolarono nella stanza da letto dell'uomo e gli conficcarono, uno nel cranio e uno nel collo, due chiodi con dei martelli, un po' a emulare l'episodio biblico di Jaele e Sisara rappresentato in molti quadri. E poi per simulare comunque la morte accidentale, se non la morte naturale, presero il cadavere e pensarono di, e crearono, e praticarono un buco nelle travi in legno sul ballatoio del balcone della sua stanza. Purtroppo però Francesco Cenci era un uomo molto grosso e robusto, e quindi quando tentarono di farlo cadere nel buco che avevano praticato nelle assi del balcone per simulare quindi un incidente, cioè a dire che Francesco Cenci, mentre era fuori al balcone, era precipitato e quindi era morto semplicemente a causa dell'impatto della caduta, si accorsero però che il buco non era abbastanza grande per far scivolare il corpo e allora furono costretti a distruggere la ringhiera per spingere così il corpo giù dal balcone direttamente. Venne dato l'allarme, venne quindi ritrovato il cadavere di Francesco Cenci ai piedi del balcone distrutto della sua stanza, subito venne appurato che doveva per forza di cosa essersi trattato di morte accidentale e venne seppellito in maniera frettolosa con dei funerali super veloci. Per quel momento grazie anche alla compiacenza di alcuni parenti dei Cenci che comunque quel complotto, anche se orchestrato da le persone proprio nell'ambito, in quell'ambito, quindi Beatrice, i fratelli Giacomo e Bernardo, la matrigna Lucrezia e i due Olimpio e Marzio Catalano, sebbene organizzato per lo più da questo gruppo, in molti altri dovevano comunque esserne a conoscenza, come ad esempio un parente alla lontana dei Cenci, Monsignor Guerra, che appartenendo comunque al clero romano pensava che magari avrebbe potuto eventualmente arginare un'eventuale indagine e quant'altro e in effetti sembrò che il piano fosse andato liscio tranquillamente, non ci fu un'indagine, la morte di Francesco Cenci era dovuta a una caduta dal balcone, funerale fatto in fretta e furia e basta. L'incubo poteva dirsi definito per i giovani Cenci e per la ormai nuova vedova Lucrezia Petroni. Purtroppo però, questo fatto fece alzare le antenne a qualcuno, in particolare dalle schiere dello stesso Papa Clemente VIII. Quindi venne aperta in un secondo momento una probabile inchiesta, anche perché già dopo aver sentito la versione della caduta dal balcone, lo scenario non sembrava corrispondere a quanto detto. Prima di tutto il buco nelle assi del balcone sembrava essere più piccolo del normale, prima cosa. Secondo, qualora anche Francesco Cenci fosse caduto da quel buco nelle assi del balcone e fosse morto in seguito alla caduta, come mai le ringhiere erano rotte e le ringhiere del balcone sdradicate, puntavano verso l'esterno. Qualora Francesco Cenci fosse precipitato nel buco dal balcone, allora lui per sostenersi alle ringhiere le avrebbe dovute si sdradicare, ma in quel caso la ringhiera avrebbe dovuto puntare verso l'interno, non verso l'esterno, quindi già questo era un buco che non convinceva molti. E quando alla fine ottenero il mandato per disotterrare il corpo di Francesco Cenci, per esaminarlo più attentamente, si resero conto che le ferite non corrispondevano a quelle di una normale caduta e infatti la prima cosa che notarono furono il foro all'interno del cranio e quello all'interno della gola, quindi simili ferite non potevano assolutamente corrispondere ad una caduta. Tanto bastò per consentire l'apertura di un'indagine e ovviamente a farne le spese per primi furono quelli che più avevano da guadagnarci, obiettivamente, dalla morte di Francesco Cenci, quindi i suoi familiari. Però i Cenci rimanevano comunque una delle famiglie più ricche di Roma, quindi non potevano essere presi come dei criminali qualsiasi, processati e messi anche sotto tortura affinché confessassero i loro crimini. Però c'erano Olimpio Calvetti e soprattutto Marzio Catalano, che non rientravano, diciamo, nello stesso rango dei Cenci. Erano quindi quelli più su cui si poteva maggiormente puntare per capire meglio come si erano svolti i fatti e principalmente per trovare le prove della colpevolezza dei Cenci, perché era praticamente quasi certo che se di omicidio si era trattato, si trattava sicuramente di un omicidio orchestrato da chi poteva muoversi all'interno di Rocca Petrella, quindi proprio i Cenci. Per evitare questo, Olimpio Calvetti e Marzio Catalano vennero liquidati dagli stessi Cenci. Però purtroppo questo segnò un azzardo fatto dallo stesso Monsignor Guerra, colui che aveva tentato di coprire in un primo momento il delitto dei due giovani Cenci, decise Monsignor Guerra di evitare possibili problemi eliminando il problema alla radice, quindi pagò uno dei servi di Casacenci affinché uccidesse Olimpio Calvetti, in modo così da eliminare subito un probabile testimone. E questa fu la mossa azzardata che perse tutti i Cenci. Infatti, subito dopo la scomparsa di Olimpio Calvetti e di Marzio Catalano, venne messa una taglia sopra la loro testa. A causa di ciò, il servo che era stato pagato da Monsignor Guerra per uccidere Olimpio Calvetti, pensò ingenuamente di fare un doppio affare, e dopo aver intascato il salario da Monsignor Guerra, uccise Olimpio Calvetti, gli tagliò la testa e la portò in Vaticano, così in modo da ottenere la ricompensa per aver riportato morto un ricercato. E proprio questo fece... E dopo ciò, il servo confessò di essere stato pagato da Monsignor Guerra per uccidere Olimpio Calvetti, in modo da poter coprire il ruolo che avevano avuto Giacomo, Beatrice, Bernardo, Cenci e Lucrezia Petroni, nell'omicidio di Francesco Cenci. Monsignor Guerra, vista la malapparata, riuscì a scappare in sordina e di lui si persero le tracce. Così non avvenne invece per il nucleo familiare. A maggior ragione, dopo che anche Marzio Catalano venne preso e torturato. Sotto tortura, Marzio Catalano confessò tutto. Disse che Francesco Cenci era stato ucciso e che a organizzare il tutto erano stati Beatrice e il resto della sua famiglia. Messo a confronto con Beatrice, Marzio Catalano in un primo momento confermò quanto detto sotto tortura, ma Beatrice impassibile rigettò ogni accusa e di fronte a ciò Marzio Catalano si ritirò indietro e ritrattò quanto aveva detto, quanto aveva confessato, ma ormai tutto quello che il Tribunale della Chiesa voleva ce l'aveva in mano. Quindi aveva tutte le prove possibili per aprire un'eventuale indagine e e quindi iniziare ad interrogare come si deve il nucleo dei Cenci. Ha maggior ragione perché poco dopo Marzio Catalano non poteva più rispondere ulteriormente perché in seguito alle torture subite morì in carcere. Rimanevano quindi da concedere, il cerchio quindi si andava a stringere sempre più attorno a Beatrice e ai suoi. Vennero quindi arrestati e i primi a venire posti sotto tortura finché confessassero furono Giacomo e la matrigna Lucrezia. In un primo momento anche loro come Beatrice rigettarono le accuse di aver l'accusa di omicidio, di aver organizzato l'omicidio del padre e marito, ma sottoposti alla tortura della corda dopo poco confessarono e accusarono apertamente Beatrice di essere stata la vera organizzatrice di tutto il complotto. Messa di nuovo a confronto con il fratello e la matrigna Beatrice negò ancora ulteriormente, al che ai giudici non restò altro da fare che sottoporre anche lei alla tortura. E guardate il fatto che delle donne come Lucrezia e Beatrice fossero sottoposte alla tortura, donne anche di una certa levatura nobiliare, non poter lasciare, non poter non impressionare la popolazione di Roma che già si stava radunando attorno ai tribunali per capire meglio di più i dettagli di questa storia, a mano a mano che ogni volta che un dettaglio spuntava fuori. Alla fine Beatrice a sua volta venne messa sotto, venne sottoposta alla tortura della corda. Tentò di resistere ma poi le piazzarono dei pesi legati alle caviglie in modo che la tortura fosse ancora più dolorosa e dopo un solo strattonamento di corda confessò, chiese che la liberassero subito in modo che potesse confessare tutto quanto. E così Beatrice disse tutto. Confermò che il padre la teneva segregata in casa e la maltrattava e la trattava in maniera disumana, negandole ogni possibilità di uscire anche solo, di poter essere libera. A rincarare la dose poi furono le testimonianze di Giacomo, di Lucrezia e anche del piccolo Bernardo che in virtù della sua minore età non venne sottoposto alla tortura e da tutti i dettagli che ne derivò spuntò alla fine fuori anche la testimonianza di Lucrezia che accusò il marito di violenze nei confronti della figlia oltre che di se stessa. Ma a queste accuse Beatrice si rifiutò di confermarle. Qualcuno direbbe come mai? In tutte le confessioni Beatrice non confessò anche le violenze sessuali subite dal padre. Qua dobbiamo andare di ragionamento un po' più moderno. Per una persona che è vittima di violenze sessuali, soprattutto se vengono subite all'interno dell'ambito familiare, dove tecnicamente una persona dovrebbe sentirsi più al sicuro, non è mai facile ammetterlo. Già in condizioni esterne, di violenza esterna alla famiglia, è difficile ammettere di aver subito una violenza sessuale. È peggio ancora quando si tratta di una figlia che viene violentata dal padre, certo è una visione più moderna del modo di pensare, però non credo che la mente umana in questi dettagli cambi nel corso dei secoli. Quindi penso che se Beatrice non confessò le violenze sessuali, pur avendo confessato, avendo raccontato le violenze fisiche alle quali Francesco la sottoponeva, penso che il fatto che non abbia confermato le violenze di carattere sessuale rientrino nell'ottica della vittima di stupro che prova quasi un senso di vergogna nell'ammetterlo. Ma di base ai giudici importava poco che Beatrice fosse stata una vittima che si era ribellata, anche perché a muovere le fila di quel processo, che sarebbe stato letteralmente il processo del secolo, anzi, visto che era il 1599 della fine del secolo, alla Chiesa poco interessava, perché, ripetita Juvent, i cenci erano la famiglia più ricca di Roma, avevano un sacco di proprietà, tante ricchezze, tanti beni mobili e immobili, e Papa Clementi VIII necessitava di soldi per completare la Cappella Clementina in Vaticano. Fatevi voi due calcoli. Dopo che il capofamiglia è venuto a mancare, restavano degli eredi, sì, ma eredi che probabilmente si erano macchiati dell'omicidio del patriarca di questa famiglia, la famiglia più ricca del mondo, quindi, facendosi due calcoli, con una condanna per omicidio degli ultimi membri della famiglia Cenci, in automatico tutte le loro ricchezze, tutte le loro proprietà, venivano sequestrate e incamerate dalla Chiesa. Sapete, dopo questo bel senso di disinteresse giudiziario, mi sembra che in confronto Radio Maria, che in momenti di crisi come questa chiedeva soldi per finanziare se stessa, piuttosto che per finanziare degli ospedali, in confronto, sì, quelli di Radio Maria in confronto sembrano una, proprio una, una, una loggia di santi. Beh. Ma nel men, ma se da una parte la Chiesa premeva per una condanna definitiva per gli ultimi Cenci, in modo da potersi appropriare delle loro ricchezze, dall'altro nel popolino di Roma iniziavano a diffondersi le storie, le voci attorno alla storia dell'omicidio di Francesco Cenci e in particolare su Beatrice Cenci, che divenne quasi una, una, proprio un'eroina già in vita, divenne una beniamina del popolino, che in lei vedevano un personaggio quasi da romanzo, una figura perseguitata, quasi una santa, una figura di santa che per, per difendere la propria purezza dal padre, lascivo e criminale, arriva, per salvarsi, arriva quasi a voler decidere di sacrificare la, la sua innocenza pur di liberarsi da questa oppressione, non poteva non attirarsi le simpatie del popolo, che iniziò a definirla innocente, ma attenzione, nell'ottica di quel tempo, Beatrice Cenci fu innocente non di aver, dell'omicidio del padre, di quello molti sembrava quasi certo che fosse, era praticamente a furor di popolo, era sicuramente colpevole, ma per il popolino era innocente nelle sue intenzioni, se Beatrice aveva ucciso suo padre non lo aveva fatto per fini egoistici, per questioni di eredità o perché era malvagia, l'aveva fatto per autodifesa, lei era innocente in quanto nella loro ottica più terra terra o era lei che uccideva il padre o sarebbe stato il padre che alla fine a furia di violenze avrebbe ucciso la figlia e guardandolo un po' in una certa ottica, se veramente fosse stato alla fine Francesco Cenci a causare la morte volontaria o involontaria della figlia, nessun tribunale lo avrebbe mai condannato, cosa che invece non avvenne per Beatrice e la sua famiglia. Infatti dopo un processo Beatrice, i fratelli Giacomo e Bernardo e la matrigna Lucrezia vennero riconosciuti colpevoli di omicidio e condannati a morte. le donne sarebbero state decapitate in piazza di Castel Sant'Angelo, Giacomo sarebbe stato torturato, poi mazzolato, cioè gli sarebbero stati spezzati gli arti con una mazza e infine sarebbe stato sbudellato e la sua testa sarebbe stata tagliata in ad post-mortem. Per Bernardo, vista la sua minoretà, si pensò in un primo momento di condannarlo anche lui a morte come la sorella e la matrigna, ma alla fine proprio a causa della sua minoretà si decise di graziarlo e di condannarlo semplicemente alle galere, ovvero a remare sulle navi. Però quasi non si sa bene per quale motivo, forse per punirlo in un certo qual modo del suo crimine, magari fu un atto di malvagità gratuita, non si sa. Fatto sta che Bernardo, che all'epoca aveva un'età compresa tra i 15 e i 17 anni, non venne informato del fatto che era stato graziato, venne a saperlo solo dopo, quindi lui fino all'ultimo pensò che sarebbe morto assieme a sua sorella, suo fratello e la sua matrigna. Arriviamo quindi a quel fatidico giorno dell'11 settembre del 1599, con la folla assiepata sotto il sole infuocato di Roma, lungo il ponte che taglia il Tevere e porta a Castel Sant'Angelo e tanto è la Ressa, come vi ho detto, che alcuni moriranno schiacciati, altri ancora precipiteranno dal ponte e annegheranno nel Tevere, altri invece a causa dell'esposizione al sole moriranno per insolazione, eccetera. Giusto per farvi capire la folla che si era radunata per vedere quello scenario, per vedere quello che sembrava l'ultimo atto di una tragedia che aveva tenuto col fiato sospeso l'intera città in questa sorta di caso giudiziario spettacolarizzato antelitteram, col seno di poi possiamo ben comprenderne l'ottica e la portata mediatica oltre che spettacolarizzata. Come ho già detto, la scena seguì quasi una rassegna da tableau vivante. Con la salita sul palco dei vari, degli ultimi rimasti di questa tragedia familiare, quindi Bernardo che collassò più e più volte, svenne durante tutto il tempo delle esecuzioni legato ad una sedia sul palco, spettatore in primo piano della morte dei suoi familiari. Poi Lucrezia e Beatrice, una svenuta e sostenuta per le spalle dalle guardie e Beatrice invece alta, dritta, fiera quasi, tutta vestita di bianco, con un velo in testa, quasi sembrasse una di quelle sante martiri rappresentate in tutti i quadri che all'epoca facevano la fortuna dei grandi artisti e che erano rappresentati in tutte le chiese. Infatti forse grazie al potere del palco dell'esecuzione, dove i condannati avevano la possibilità in un certo qual modo di consegnarsi alla storia e diventare in un certo modo quasi degli eroi, se avevano una certa predisposizione quasi artistica di morire. Sì, scusate, ho perso il filo. Una certa predisposizione, come dire, come ha scritto Nadia Fusini nel suo specchio di Elisabetta, il palco del boia dà la morte ma dà anche l'immortalità se uno sa morire bene. E questo è il caso di Beatrice, consapevole di questo fatto, volle presentarsi al mondo come la vittima innocente che lei sentiva di essere e che era in fondo, perché, come ho detto, i romani avevano ragione a dire che Beatrice, pur essendo colpevole dell'omicidio di suo padre, era comunque innocente, perché se omicidio c'era stato, lei l'aveva fatto per difendersi, per rispondere a quella che era una violenza che era rimasta inascoltata da tutto un mondo. Quindi, agli occhi di tutti e agli occhi di se stessa e anche agli occhi di Dio nella sua concezione, Beatrice si presentava al momento del giudizio finale innocente, come appunto una martire, una martire di un caso giudiziario falsato, perché non ci dimentichiamo che al di là della giustizia che poteva essere giusta o meno secondo le leggi. Il processo ai Cenci fu dovuto principalmente al desiderio del Papa di incamerare i beni materiali dei Cenci. Quindi, dopo le due donne, poi salì anche sul palco Giacomo, che lungo tutto il tragitto, dal carcere fino a piazza di Castel Sant'Angelo, era stato torturato con tenaglie e ferri roventi e trascinato sul palco legato a dei ceppi. La prima a morire, la prima a essere decapitata, fu Lucrezia, che venne deposta sul ceppo priva di sensi. Si può dire che Lucrezia sia stata la più fortunata perché non ebbe coscienza del fatto di essere stata decapitata. lei perse i sensi tranquillamente, la appoggiarono col capo sul ceppo e il boia si sbrigò a decapitarla. Beatrice, invece, s'è perfettamente cosciente, fredda, vigile in sé stessa, sotto gli occhi di tutta una città che la stava guardando, si tolse fieramente il velo bianco dalla testa, appoggiò lei tranquilla la testa sul ceppo, un colpo di spada, perché ebbero il privilegio di venire decapitate con la spada invece che con l'ascia, e in un attimo il calvario, perché quello di Beatrice comunque era stato un lungo calvario, il calvario di Beatrice Cenci ebbe fine con un unico colpo di spada. Dopodiché si passò a Giacomo, a cui vennero spaccati le estremità con una mazza di legno, venne sbudellato e dopo morto la sua testa venne tagliata e raccolta in panni di tela assieme a quelli della sorella e della matrigna. Tanto dopo ciò Bernardo seppe di essere stato graziato, Bernardo in quel frangente era praticamente un cencio, era bianchissimo, era svenuto ogni volta che la spada si era battuta sul collo della sua matrigna e di sua sorella e le tenaglie avevano dilaniato suo fratello. Venne condannato alle galere, riuscì in seguito a riscattarsi pagando la sua libertà, ritornò a vivere nel mondo civile ormai dimenticato da tutti e comunque spezzato nella mente e nello spirito dalla tragedia di cui era stato colpito. E così si conclude la vicenda di Beatrice Cenci, uno dei casi più famosi, come vi ho detto, della nostra storia, un caso di cronaca nera più famoso della storia italiana e mentre lo studiavo mi è venuta in mente questa riflessione, ovvero come la giustizia di oggi avrebbe trattato il caso di Beatrice. Allora, perché se da una parte c'è in tutta la storia, in tutto l'omicidio di Francesco Cenci, la premeditazione, compresi anche i primi due tentativi di ucciderlo, da un'altra c'era la questione degli attenuanti. Alla fine Francesco Cenci, a parte essere un uomo che aveva una fedina penale sporchi, veramente, veramente sporca, Beatrice e Lucrezia erano, diciamo, praticamente vittime. Oggi le potremo definire vittime di abusi domestici, sicuramente. Da questo punto di vista quindi c'è, nella mia testa si era posta questa domanda, se il caso di Beatrice Cenci si fosse svolto oggi, come si sarebbe svolta la vicenda, a parte il fatto che non sarebbe finita con, non ci sarebbero state torture, non ci sarebbe stata la pena di morte, per fortuna, ma dall'altra ho pensato, quale sarebbe stato l'esito? Avrebbe prevalso la premeditazione dell'omicidio o le attenuanti? Dopo aver a lungo ragionato, ci tengo a dire che io non sono un giurista, non sono pratico in questo mestiere. Se magari qualcuno di voi che studia legge o giurisprudenza vuole magari venirmi incontro, mi può lasciare un commento, spiegarmi un po' la situazione e aiutarmi anche a me principalmente a capire, perché sarei molto curioso. Per l'ipotesi, per le riflessioni che ho fatto io, ho pensato che di per sé la premeditazione avrebbe avuto maggior preso delle attenuanti, perché comunque come ho detto si contavano già due primi tentativi di uccidere Francesco. La premeditazione c'era perché c'era stata tutta l'organizzazione e purtroppo negli attenuanti mancava una circostanza che magari avrebbe potuto essere una vera attenuante, ovvero la legittima difesa, ovvero nel caso in cui Beatrice oppure Lucrezia avessero ucciso Francesco per difendersi dalle sue violenze. In quel caso avrebbero potuto far leva sulla legittima difesa. E questo è sul piano giuridico. Però mi è venuta in mente anche la questione sociale del fatto di cronaca. Come vi ho detto siamo nel 1599 con questa vicenda, eppure dalla reazione del popolo, come reagì, come seguiva con attenzione, le opinioni che lanciava sul caso è molto simile a come ci comportiamo noi oggi con i casi di cronaca nera più eclatanti, con la spettacolarizzazione che se ne fa. Ebbene, sul piano sociale Beatrice diventerebbe anche oggi, anzi oggi forse anche un'antecchia di più, quasi sicuramente un personaggio di una certa portata mediatica. Se lei fosse vissuta ai tempi nostri i talk show per un certo periodo non avrebbero fatto altro che parlare di lei, sciorinando nel dettaglio il suo dramma, il suo crimine, probabilmente sarebbe stata difesa a spada tratta dalle femministe che avrebbero visto in lei la vittima dell'oppressione della donna da parte dell'uomo violento, alla quale alla fine lei si ribella. E sarebbe stata attaccata anche strenuamente dai maschilisti, per i quali lei sarebbe stata l'emblema della disparità giudiziaria, nella quale gli uomini vengono collocati su un piano più di condanna da parte della giustizia che tutela maggiormente le donne. Ma c'è un ma. Se fosse vissuta oggi sarebbe probabilmente stata un personaggio pubblico per un certo periodo, per poi venire rimpiazzata da un nuovo fatto di cronaca nera più nuovo e più spettacolare. E di lei si sarebbero perse le tracce dopo poco, al massimo dedicandole un trafiletto sui giornali dopo che avrà scontato la sua pena, magari con un condono per buona condotta, chi lo sa, poi magari ritirarsi a vita privata, sposarsi magari, avere figli, cercare di crearsi una famiglia e venire poi dimenticata. Ma vivendo invece in un'epoca violenta, per citare il biografo di Caravaggio Andrew Graham Dixon, in cui impreavano artisti che avrebbero padroneggiato la scena culturale in tutta Europa, Beatrice ha avuto la possibilità di entrare a far parte di quella schiera di personaggi che dalla cronaca sono stati cristallizzati nella leggenda delle arti, dei quadri, dei drammi, delle opere, dei romanzi, della cinematografia, eccetera, eccetera. E qui rientra anche la questione del palco dell'esecuzione, come vi avevo già accennato, in cui proprio con la messa in scena di lei, vestita quasi fatta ad arte, di Beatrice che, vestita di bianco, con il velo in testa, che senza che il boia la toccasse, si toglie il velo dalla testa, scoprendo i suoi capelli, che lei stessa scosta e appoggia la testa sul ceppo e si concede al taglio della lama. È tutto quasi così artistico, così teatrale, che proprio è quasi a forza, che sembra quasi che Beatrice a forza abbia voluto in articolo mortis essersi voluta prendere questa rivincita su un mondo che l'aveva condannata, che l'aveva impedito di vivere la sua vita, uccidendola a 22 anni, a causa, pagando per i crimini, più che altro i crimini a causa dei crimini che il padre ha commesso su di lei, condannata da una mala giustizia che ha puntato unicamente, semplicemente, al fatto di voler concupire le ricchezze della sua famiglia. Lei ha fatto questo, il resto del mondo è morto ed è stato dimenticato, lei invece oggi è ancora viva, è viva nei quadri che le sono stati dedicati, nelle opere teatrali che sono state scritte su di lei, nei film che le sono stati dedicati, veramente. Beatrice, morendo a 22 anni, è entrata nella schiera dei personaggi immortali. Da un certo punto di vista può sembrare una ben magra consolazione, ma io purtroppo parlo parecchio con la visione dell'artista. E parlando proprio di arte, faccio un poco di un piccolo discorso in conclusione sulle varie nozioni. Allora, prima di tutto per creare questo video mi sono basato sui vari testi che si trovano sparsi su Beatrice Cenci e il suo caso. In particolare c'è il testo, il piccolo resoconto cronicistico di Alexandre Diumapadre, i Cenci, e in più i segreti di Roma di Corrado Augas, dove viene dedicato, un'intera parte viene dedicata al caso di Beatrice Cenci. Poi, beh, c'è la tragedia, il testo teatrale I Cenci scritto da Antonin Arthode, che ne voleva fare il suo manifesto del suo teatro delle crudeltà, il teatro che lui aveva teorizzato. Purtroppo come testo teatrale non va letto alla leggera. Se uno lo leggesse lo vedrebbe come una semplice tragedia novecentesca, anche parecchio datata. Per comprenderla pienamente si dovrebbe studiare prima il concetto di Antonin Arthode, del teatro delle crudeltà. Perché anche con il suo stesso testo, purtroppo, lui per primo aveva un po' fallito, perché il teatro delle crudeltà di Antonin Arthode è più una questione teorica, più che una cosa da mettere in scena. Ma questa è una sezione che a parte totalmente. Quando un giorno vi parlerò del teatro, dal mio punto di vista, ve ne parlerò ampiamente. Oppure, per il resto, a occuparsi anche del caso di Beatrice Cenci è stato anche Alberto Moravia che ne scrisse una sua versione di una tragedia, Beatrice Cenci, pubblicato sulla rivista di letteratura Botteghe Oscure. Per quanto riguarda poi la musica, non possono non mancare le opere che l'hanno ripresa in più versioni. Sono tantissime, ve ne lascio magari alcune delle più famose qua nell'infobox. E soprattutto poi anche i cineasti non potevano lasciarsi sfuggire questa storia. In particolare, penso, quelli più famosi ovviamente sono il film di Riccardo Freda, Beatrice Cenci, del 1956, che ne dà una versione parecchio edulcorata. Infatti in questa versione Beatrice è innocente della morte del padre, che viene ucciso dalla matrigna e dal figlio maggiore che sono uniti qui da un legame adulterino e che entrambi accusano la sola Beatrice dell'omicidio. E c'è poi invece il film, sempre dal titolo Beatrice Cenci, di Lucio Fulci del 1969, che è molto più attinente alla realtà storica. E in più viene ripresa, anche questo mi è rimasto impresso, viene ripresa in maniera secondaria alla vicenda di Beatrice Cenci nella miniserie Rai del 2007 su Caravaggio, dove Beatrice è qui interpretata da Maria Elena Bandone. E ovviamente parlando di Caravaggio non possiamo non parlare ovviamente dei quadri, del fattore artistico. All'epoca si riteneva che i pittori erano tenuti a partecipare in prima fila alle esecuzioni capitali, perché così, vedendo com'era la morte, potevano meglio rappresentare la morte dei martiri che erano chiamati a rappresentare sulle loro tele. Ed è famoso il ritratto di Beatrice Cenci, dipinto da Guido Reni, che si dice sia stato fatto dal vivo dopo che il pittore ebbe permesso di visitare la ragazza in carcere, che ce la rappresenta proprio come doveva essere il giorno prima della sua esecuzione, già con il suo abito bianco, il suo velo in testa a mo' di copricapo, lo stesso che poi si toglierà al momento in cui le verrà tagliata la testa. Si dice poi che lo stesso Caravaggio, che era presente, si fosse ispirato alla tragica vicenda della giovane Beatrice per il suo famoso quadro Giuditta che decapita Oloferne, quasi in questo gioco di ribaltamento in cui non è più l'uomo che decapita la donna, ma è la donna che uccide l'uomo, quasi a concedere alla povera ragazza ormai morta una giustizia umana che in vita l'era mancata, perché Caravaggio era nella schiera degli artisti presenti quel giorno all'esecuzione di Beatrice e della sua famiglia e accanto a lui quel giorno c'era anche un altro pittore molto noto all'epoca, uno che pur essendo anagraficamente più grande di Caravaggio sarebbe stato uno dei rappresentanti di prima generazione della corrente artistica che avrebbe fatto riferimento al grande Michelangelo Merisi nei loro quadri. Quel pittore si chiamava Orazio Gentileschi e sulle spalle, in modo che potesse vedere meglio lo spettacolo della morte di Beatrice Cenci, c'era la sua figlia primogenita che all'epoca aveva solo sei anni, si chiamava Artemisia e circa dieci anni dopo anche lei sarebbe stata protagonista di un caso giudiziario che avrebbe fatto molto chiacchierare la Roma di quel tempo, ma di questa storia parlerò in maniera più estesa nella prossima lezione di storia. Quindi per il momento il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un like se così è stato, commentate, ditemi la vostra sulla vicenda di Beatrice Cenci, mi appello soprattutto a quelli che studiano giurisprudenza, ditemi voi cosa ne avete pensato, ditemi anche voi la vostra, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi anche su Instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao!